Immagina di essere un astronomo, seduto tranquillamente nel tuo osservatorio in una notte d'estate del 1977. I tuoi occhi scrutano pigramente i dati che scorrono sullo schermo del computer, quando all'improvviso, BAM! Qualcosa di straordinario cattura la tua attenzione. Un segnale, forte e chiaro, proveniente dallo spazio profondo, ma non un segnale qualsiasi. Questo è diverso da qualsiasi cosa tu abbia mai visto prima. Questo è esattamente ciò che accadde a Jerry Eman il 15 agosto 1977 all'osservatorio di Big Ear, Ohio. Il segnale era così sorprendente che Eman non poté fare a meno di scrivere WOW sul foglio dei dati. E così nacque la leggenda del segnale WOW. Ma cosa rendeva questo segnale così speciale? E perché, dopo quasi 50 anni, continua a far discutere scienziati e appassionati di tutto il mondo? Preparatevi a un viaggio attraverso uno dei più affascinanti misteri dell'astronomia moderna. Un mistero che ci porta a chiederci, siamo davvero soli nell'universo? Il segnale WOW non era un semplice rumore di fondo cosmico. Era qualcosa di molto più intrigante. Durato per 72 secondi, il segnale aveva una frequenza di 1420 MHz, esattamente la frequenza dell'idrogeno. Ma perché questo è importante? Bene, immaginate di voler comunicare con una civiltà aliena. Quale frequenza scegliereste? Probabilmente una che sia universalmente riconoscibile, giusto? L'idrogeno è l'elemento più abbondante nell'universo e la sua frequenza di risonanza è come un faro cosmico. È la frequenza che molti scienziati ritengono potrebbe essere usata per la comunicazione interstellare. Il segnale era anche incredibilmente potente, 30 volte più forte del rumore di fondo, e sembrava provenire dalla direzione della costellazione del Sagittario, vicino al centro della nostra galassia. Ma c'era qualcosa di ancora più strano, il modo in cui il segnale apparve e scomparve. Sembrava accendersi, gradualmente, raggiungere un picco e poi spegnersi. Questo modello corrispondeva esattamente a ciò che ci si aspetterebbe da un segnale di origine extraterrestre, captato da un radiotelescopio fisso, mentre la rotazione della Terra lo fa passare nel suo campo visivo. Immaginate la frenesia che seguì la scoperta del segnale WOW. Astronomi di tutto il mondo puntarono i loro telescopi verso la stessa regione di cielo, sperando di captare nuovamente quel misterioso messaggio. Anni passarono, decenni, niente. Il silenzio cosmico era assordante. Ma i cacciatori di segnali non si arresero. Nel corso degli anni sono state condotte diverse campagne di osservazione mirate. Nel 1987 e 1989, Robert Gray e Simon Ellingson utilizzarono il radiotelescopio di Parkes in Australia per cercare il segnale, ma senza successo. Nel 1995 e 1996, Gray con una ricerca ancora più approfondita utilizzando il Very Large Array nel New Mexico, ma ancora una volta senza risultati. Nel 2016, l'astronomo Antonio Paris propose una nuova teoria. Il segnale poteva essere stato causato da una o due comete passate davanti al telescopio nel 1977. Tuttavia, questa teoria fu rapidamente contestata. Le comete non emettono segnali radio così potenti e concentrati. E poi c'era quella frequenza dell'idrogeno. Una coincidenza troppo perfetta per molti. La caccia continuava, ma il segnale wow rimaneva sfuggente come sempre. Mentre gli scienziati continuavano la loro ricerca, l'immaginazione del pubblico si scatenava. Se non era una cometa e se non riuscivamo a trovarlo di nuovo. Cosa poteva essere quel misterioso segnale? Alcuni teorizzarono che potesse essere una sorta di faro galattico, un segnale progettato per attirare l'attenzione di civiltà emergenti come la nostra. Altri ipotizzarono che potesse essere una fuga di dati da una megastruttura aliena, come una sfera di Dyson. C'era chi suggeriva che il segnale potesse essere un frammento di una conversazione cosmica di cui abbiamo captato solo un istante fugace. Come ascoltare per caso una parola di una telefonata su una linea disturbata. Altre teorie più esotiche includevano un segnale proveniente da una civiltà che esisteva milioni di anni fa e che abbiamo captato solo ora a causa dell'enorme distanza che la luce ha dovuto percorrere. Un messaggio da un'altra dimensione o da un universo parallelo che è trapelato nel nostro. Un test cosmico, una civiltà avanzata che invia segnali casuali per vedere quali altre civiltà sono abbastanza sviluppate da captarli. Naturalmente c'erano anche spiegazioni più prosaiche. Poteva essere stato un errore del sistema di rilevamento o un segnale di origine terrestre riflesso da un detrito spaziale. Ma queste spiegazioni sembravano non rendere giustizia all'unicità e alla precisione del segnale WOW. Dopo quasi mezzo secolo, il segnale WOW rimane uno dei più grandi misteri dell'astronomia moderna. Non siamo mai riusciti a catturare di nuovo quel fugace sussurro dallo spazio profondo, ma il suo impatto sulla scienza e sulla cultura popolare è innegabile. Il segnale WOW ha ispirato generazioni di astronomi e ha alimentato la nostra speranza di non essere soli nell'universo. Ha spinto lo sviluppo di tecnologie di rilevamento più avanzate e ha portato a progetti di ricerca di intelligenza extraterrestre, Sethi, sempre più ambiziosi. Ma forse il suo lascito più importante è il modo in cui ha catturato l'immaginazione del pubblico. Il segnale WOW ci ricorda che l'universo è vasto, misterioso e pieno di possibilità. Ci spinge a guardare oltre, a fare domande audaci e a cercare risposte alle questioni più grandi dell'esistenza. Che si tratti di un messaggio alieno, di un fenomeno naturale ancora sconosciuto o di qualcosa che va oltre la nostra attuale comprensione, il segnale WOW continua a risuonare nella nostra coscienza collettiva. È un promemoria che ci sono ancora grandi misteri da risolvere e che la prossima grande scoperta potrebbe essere proprio dietro l'angolo. La prossima volta che alzerete lo sguardo al cielo notturno ricordatevi del segnale WOW. Chissà, potreste essere voi a captare il prossimo messaggio dalle stelle. Dopotutto, in un universo infinito tutto è possibile.